Cioè ragazzi non ho ancora iniziato a registrare e come potete vedere il bambino di 7 anni mi ha già riempito di sussurri, di inviti, mi sta veramente spammando L'ultimo video è uscito un sacco di tempo fa e oggi ho deciso di rifargli il provino per entrare nel team Quindi invitiamoli nel lobby ovviamente ragazzi se anche voi volete fare il provino like, iscrizione al canale e soprattutto codice supporto a un creatore Naxx con 2x nello shop e mi raccomando mettetelo E scrivete nei commenti ragazzi se volete fare il provino, ora non perdiamo altro tempo e invitiamolo Sperando che questa volta sia davvero migliorata e non come l'altra volta che mi diceva era fortissimo e praticamente ha fatto schifo in tutta la partita Ok ragazzi il momento è arrivato, uniamoci al suo gruppo e sono veramente curioso di sentire quello che dirà ragazzi Marchino ci sei, mi senti? Tutto bene? Bro, bro ci sei, mi senti? Ah, ci sei allora, ci sei, va bene, ma scusa bro, mi hai invitato e mi hai scritto nei sussurri negli scorsi giorni che sei migliorato su Fortnite e vuoi rifare il provino, vero? Ok ma, sì, sei migliorato, ma sei livello 1, come fai ad essere migliorato bro? Sì, ma io uso questo account come ho detto l'ultima volta, per non farmi scoprire Ah, non si vuole far, vabbè, vabbè ti crederò, farò finta di crederti, adesso andiamo in partita Ovviamente io mi farò eliminare subito e te dovrai giocare contro i team e ovviamente vincere la partita Ci siamo? Ok, va bene, perfetto, andiamo in game Perfetto, siamo sul bus, buttiamoci a Brugheri, ovviamente mi faccio eliminare, ma te bro devi vincere la partita, te lo ricordo, altrimenti sei completamente squalificato e non entrerai mai nel team Ok, ok, perfetto, mi raccomando, eh Ok, raga, ci buttiamo dalla torre, quanto è facile essere chillati su Fortnite, veramente Ma potresti anche non cantare, ci sono nemici, eh, mi raccomando, stai attento, cerca di eliminarli tutti E vabbè, non mi stanno neanche trovando Ma cosa mi resti? Bro, ma non mi devi restare Devi... Killalo No, no, bro, ti prego, per favore, per favore, no, per favore, no No, ragazzi, va a piccone Bro, killalo, dai Ossia, l'ha killato a piccone, ragazzi Non so, no, 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 questa partita è già qualcosa di folle Bro, ti prego, non puoi venire eliminato da questi bot Sono dei bot, bro, se viene eliminato non farei mai più il provino Non mi devi... No, non mi devi restare, bro Perché... No, bro, dai, no, 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 basta, basta, adesso basta No, no, andiamo... Andiamo in creativa Cosa? Andiamo in creativa Vuoi andare in creativa? Andiamo in creativa Io ti ho invitato dopo tre mesi, tre mesi sono passati e te sei ancora più scarso di prima Questo è palesemente un troll, cioè mi stai veramente facendo un troll assurdo Io non ho più tempo da perdere Io sono più forte Sì, in creativa sei più forte, certo, certo Vabbè, guarda, facciamo tre round Se vinci tre round di fila, sei nel team Altrimenti io veramente non ho più tempo da perdere Sì, ha detto ne può vincere pure cento Vabbè, vabbè, ci crediamo, va Ok, selezioniamo la mappa 1v1 Metti pronto per favore E mi dice disattivato Ragazzi, Fortnite è buggatissimo Ok, ci siamo Mettiamo partita privata Andiamo in game Cosa fai adesso? Scusa, non ho capito Adesso ti distrugga Va bene, va bene, certo Non sai neanche muovere le mani col controller e vuoi distruggermi Ma sì, sì, mi stavi trollando Vabbè, andiamo in game e non perdiamo altro tempo Allora, eccoci in creativa, adesso è arrivato il momento della resa dei conti Bro, non serve che balli perché ora faremo sei round E chi ne vince di più vincerà ufficialmente questa sfida Te lo dico, eh, se vinco io ti levo l'amicizia e non ti voglio mai più vedere Perché non è possibile che ogni volta che entri Mi dai fastidio, mi fai fare questi video, mi fai perdere un sacco di tempo No Sei fortissimo, dici E a proposito, se dovessi vincere te in qualche caso Bene, va bene, ti concederò un altro provino Però adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo Ma aspetta, scusa, perché ho 62 di scudo? Mi hai sparato? Cioè, era andato un attimo in bagno e mi sono ritrovato con 62 di scudo, bro No, sarà stato il vento Vabbè, guarda, non fai nemmeno ridere Bro, scusa, eh No, no, guardate, guardate, regà Questo qua pure bara, pure bara, ma lo distruggo lo stesso, regà Cioè, non mi interessa, bro Non è vero No, veramente, sei scarsissimo Fai veramente pena, bro Fai veramente, fai veramente pena Mamma mia, quanto Cioè, pure barando ha perso Bro, pure barando hai perso Fai veramente schifo No, regà, basta Però, no, no, no Io quitto, non mi interessa, non ho più voglia Non ho più tempo da perdere Secondo te Secondo te Eh, sì, era un troll, certo, certo Due video Hai perso sempre Hai fatto sempre schifo Io quitto Adesso Ultima possibilità Questo è l'ultimo, ultimo round che ti concedo Basta, iniziamo, iniziamo, bro Iniziamo, basta Basta, basta Raga, questo è veramente l'ultimo Se vieni chillato Io non ti voglio più Oddio Oddio, regà, sta militando Regà No, aspettate un attimo Che cavolo succede Oh, regà, sta tryhardando No, regà, gli è entrata la god mod La god mod, oddio Regà, no, non può vincere Non può vincere, ovviamente, è impossibile Cosa hai detto, bro? Non ho sentito Scusami Laker mod Sì, laker mod Certo, certo Laker mod Come no, come no Ok, bro, dove sei? Eccoti, eccoti, eccoti Oh, oddio No, bro, mi hai chillato Veramente? Bro, ma stai tryhardando adesso Ma allora non sei così scarso come pensavo Mi hai trollato No, non mi direi che mi hai trollato tutto questo tempo, bro Non è possibile Mi hai trollato, ovviamente Mi hai trollato No, raga, non ci credo Questo è un troll incredibile Aspettate, no Non può vincere Non può assolutamente superare il provino Raga, è impossibile, dai È impossibile che superi il provino Lo dobbiamo killare, dai No, 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 no Non ci credo Sì Non ci Mi ha superato, lui No, 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 no Ragazzi, adesso tryhardo, basta Mi dispiace, ragazzi Il codice NUX2X attivo nello shop Non può assolutamente vincere Ok, 185 ridanno Vai, vai, vai Distrutto Perfetto Raga, incredibile Siamo 2 a 2 E non abbiamo ancora vinto Ragazzi No, no, no Aspettate Dobbiamo fare 6 round in totale Siamo a 4 per ora E beh, la partita è ancora aperta La sfida è completamente aperta Sì, tro, osca Bro, veramente, fai ridere Fai veramente Vieni qua, vieni qua Oddio, l'ho distrutto L'ho distrutto, regà Pompa, distrutto Ah, ora facciamo vedere Chi è veramente forte 3 a 2 Distruggiate Sì, sì, vabbè Senti, bro, più che altro Ti faccio una domanda Mentre facciamo questo round Te, sei veramente iscritto al canale Oppure mi prendi in giro In realtà non sei iscritto Ovvio E usa che codice EDAX6 Ok, usa il codice NUX2X Ebbè, effettivamente, raga Probabilmente Prima non lo usava Da quando l'ha messo È diventato bravo Potrebbe essere, raga Potrebbe essere Comunque A parte tutto quanto Non so perché Ho scambiato materiale Vediamo di vincere Tra l'altro, regà Mi manca solo un round Per batterlo Perché dobbiamo arrivare a 4 Quindi, quindi, quindi Vieni qua che ti killo Vieni qua che ti killo Ok, oh, regà Lo sto distruggendo Vai, vai Oddio No, no, no Ho messato col po' No, dai, vabbè, regà Ho messato col po' No, 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 bro Dai Ho messato col po' Tipo, regà L'ho messato di così tanto Non ci credo Chi vince questo Vince tutto Vai Andiamo, regà Andiamo, andiamo Andiamo Non mi interessa Non mi interessa, bro È ufficialmente La tua Regà, dai Stavolta dobbiamo assolutamente Vincere ad ogni costo Vieni qua, brother Sì, sì Scarzone Ma intanto, bro Chi è? Chi è in vantaggio? Nel realtà Nessuno Siamo pari in questo momento Dessuna, siamo pari Ok Bro, vabbè Ci ha indovinato Siamo pari veramente Vincerai te, sì, sì Vogliamo vedere come vinci Distrutto No, no, no Mi ha fatto No, mi ha fatto un sacco di danno No, fermi, fermi, fermi Dai, son caduto, regà Non ci posso credere Usiamo il rampino E tiriamo in alto Dai, che cavolo Ok Scarzo Ti tiro una botta adesso Oh, 38 Dai, come 38, regà Il pompa che fa 38 Non si può vedere Dai Dai No, no È scarico, è scarico È scarico Vai Ha distrutto Quanto godo Ragazzi Vittoria Abbiamo vinto Bro, ormai ho vinto Mi dispiace Ma ho vinto Cosa hai detto? Scusa Ho giocato bene Possiamo fare l'ultimo Sentite ragazzi È vero È vero Ha giocato bene Devo assolutamente riconoscere Possiamo fare l'ultima partita Però dopo devo andare bro Quindi ultimo round E vediamo Se lo vinci Va bene Potrei darti un'altra possibilità Ci penso Però devi vincerlo Ovviamente se vinco io Mi dispiace Sì Ma sei ufficialmente Squalificato Quindi Ok Prima raga Mi ha veramente fatto sudare Abbastanza il bro Quindi Ok Intanto raga Non mi edita neanche raga Non so perché non mi edita Che cavolo succede C'ho dieci di ping Non mi edita Beh forse effettivamente Sto un po' traiardando da troppo E quindi mi sono un attimo stancato Ma non importa Perché adesso È ufficialmente finita per te Dove Dove raga Oddio è qua Ok Ok raga Daglie Oddio Oh Che oh Ma non mi pi Sì Ragazzi ho sempre tutto Scarico No 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 Si siglo No aspetta Siamo 4 a 4 Avevamo detto 6 round Ma effettivamente siamo arrivati a 8 Quindi beh La matematica non è una buona cosa Ne per me Ne per lui Però ti lancio una sfida E lancio una sfida a tutti quanti Se raggiungiamo 100 like a questo video Farò un altro provino al bimbo di 7 anni In partita e se vincerà Sarà ufficialmente nel team bro accetti questa sfida Sii si Ok sei contento sei contento quindi Sii va bene va bene Torniamo in lobby adesso e quindi regà il bimbo di 7 anni C'è veramente sorpreso cioè io pensavo fosse un bot Invece se l'è giocata molto bene quindi mi raccomando 100 like se volete Un nuovo video con questo bambino e niente Alla prossima brother Ciao a tu Ciao raga